L'allarme a 112 è scattato attorno alle due della notte tra giovedì 14 e venerdì 15 luglio da Pescarzo di Breno dove nel centro storico a pochi passi dalla chiesa è divampato un incendio che ha distrutto interamente il tetto dell'abitazione e la soletta in legno che separa il piano rialzato da quello superiore. La casa al momento era disabitata e fortunatamente non ci sono stati feriti né sfollati ma la struttura in legno e le massalizze accatastrate hanno fatto da innesco alle fiamme che hanno divorato tutta la parte interna dell'abitazione lasciando in piedi solo i muri in pietra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Breno e gli effettivi del distaccamento di Darfo Bario Terme con i colleghi volontari di Darfo con l'autoborte. Al lavoro di spegnimento delle alte fiamme si è abbinato subito quello di messa in sicurezza delle altre case del piccolo centro storico addossate alla casa in fiamme. A Pescarzo infatti vivono stabilmente alcune famiglie e in questo periodo vi sono anche persone in vacanza. Si è trattato di bagnare abbondantemente i tetti delle case vicino a quella intaccata dal fuoco perché non fossero a loro volta esca di un incendio di più vaste proporzioni. Il lavoro di spegnimento, messo in sicurezza della zona, smassamento del materiale bruciato e durato a lungo e solo in tarda mattinata i vigili del fuoco hanno fatto rientro nei rispettivi distaccamenti. Intanto le squadre di Enel Distribuzione sono intervenute per ripristinare la linea elettrica delle abitazioni in quanto i cavi in quel tratto di contrada sono stati danneggiati dalle fiamme. Le ipotesi dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. La casa già disabitata attualmente è totalmente inagibile.